Ciao a tutti, sono Lele Sacchi, faccio il DJ da ormai quasi 20 anni, che è bello da un lato, è brutto pensare al tempo che passa, e da questa professione, espressione artistica, tutto quello che può essere, da essere DJ ho sviluppato diverse attività, oltre al semplice mettere i dischi, come mi piace ancora dire, che ovviamente continuo a fare in giro per l'Italia e a volte anche per il mondo. Dall'altro lato ho sviluppato alcuni percorsi, fra cui una società con alcuni partner che produce festival musicali ed eventi, conduco uno show radiofonico su Radio 2, e adesso siamo qua a fare Top DJ. Perché le persone che hanno costruito questo programma mi hanno dato fiducia, molta fiducia, siccome le conosco bene, sul fatto che potesse essere comunicato ad un livello più di massa, quello che è, i segreti, quello che significa essere un DJ. Top DJ